Oggi appunto si è iniziata la dottoressa Katia Pirrone, una professionista, proviene dal comune di Santa Flavia in provincia di Palermo. Siamo sicuri che potrà dare anche quell'apporto in più in una visione anche organizzativa che guarda anche al rispetto delle differenze di genere e quindi concretamente, operativamente, alle pare opportunità che è un principio sancito non soltanto giuridicamente, la nostra Costituzione, ma un principio che deve essere poi con azioni positive, quindi possene essere realizzato e attuato. E credo che in questa direzione il comune di Edice rispetta assolutamente questo principio, non soltanto nella composizione dell'aggiunta ma anche senza alcun pregiudizio, ma semplicemente guardando a quello che sono le competenze e le capacità, e appunto scegliendo tra i tanti la dottoressa Katia Pirrone e appunto una donna come direttora generale del comune di Edice. Inizio oggi questo mio nuovo percorso di lavoro che mi vede impegnata in un'amministrazione così importante e così prestigiosa come il comune di Edice. Spero di dare il mio supporto, oltre che la mia collaborazione, e di contraddistinguermi nel ruolo così importante e delicato che rivesto all'interno del comune. Il segretario generale è una funzione di vertice all'interno dell'ente, di coordinamento e di sovraintendimento delle funzioni apicali e di raccordo tra la parte politica e la parte tecnica. Un ruolo centrale, fondamentale direi soprattutto in visione di quello che è lo sviluppo economico e territoriale di un paese.